Oh no! Veloci ragazzi, uscite! Dobbiamo chiamare il coppiere, Sam! Bronwyn stava preparando i suoi snack di fuoco e ha incendiato la trattoria del pesce intero. Bronwyn stava preparando i suoi snack di fuoco e ha incendiato la trattoria del pesce intero! Presto, signori! Evacuate la zona! Tranquillo, Sam! Vi do una mano! Il pompiere, Sam, ha bisogno di rinforzi! Allora fatti volere, fratellino! Oh, che succede adesso? Venite ragazzi! Qui starete al sicuro! Mettiamoci al lavoro! Ricevuto, Sam! State tutti bene? Io sto bene! Sì! Sì, stiamo bene! Vai! Va giù! Ellie, tu spegni il gas e io l'incendio causato dall'olio! Ricevuto, Sam! Grazie, Ellie! Ottimo lavoro!